ultimo sentiero della giornata tra il traliccio pulito recentemente dai ragazzi fantastico lavoro sempre tossico non defino di più che bello sentiero così con la terra scura le macchie ai lati dei fiori galli e primule e primavera d'altronde scelta del rapporto è fondamentale considerate le rampe fantastico grande lavoro di Walter Manesso salti di ottimo livello eccoci qua potere Bene. Ma stò? La c'è il dirà. auguri con i manubri d'archi ragazzi veramente che lavoro super complimenti aspettavo la pulizia un rupristino di alto livello così attacca di cappello non solo dai vado vado tutto tutto quarto 3 4 4 4 4 4 5 Sì. 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 E vabbè... questo almeno se vado in piatto, piatto, non va bene questo è un guado vero